Il sole, il mare, il vento, pensieri che ti abbracciano come una madre col proprio figlio, l'amore vero, i tuoi sogni e le tue verità, una storia da raccontare, la tua storia. Via, linea alla regia. Questo è il mio libro, La Befana viene dal nord, e invece questa sono io, Emanuela Molaschi. Perché questo video è registrato in questo modo? Perché la fibromialgia mi impedisce di stare alla luce e di poter uscire, e quindi dovrei registrare tutto nella semioscurità. Allora vi parlerò del mio libro in una maniera diversa, sperando che la qualità delle immagini possa essere migliore. La storia tratta di fibromialgia nella mia versione, bullismo, violenza sulle donne e speranza, futuro migliore, redenzione, perdono. È una storia data a tutte le età e ad ogni periodo dell'anno, in particolare ovviamente sotto le feste e nel periodo della Befana. Laura insegnerà, insieme ai suoi amici, Bella, Kit, Ferit, Akkan e la speranza, a credere in un futuro e in un mondo migliore. Chiunque può cambiare se viene amato. Chiunque può essere di nuovo sano, nonostante il dolore, se qualcuno gli crede e gli dà una mano. Chiunque può salvarsi da un brutto destino se trova un amico. La speranza è la ricetta della felicità, e vi aspetta qui in ogni formato. Ciao!